La rassegna stampa è offerta da Mercoledì 28 maggio, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. L'apertura dedicata alla politica Matteo Renzi chiede una svolta al vertice europeo di Bruxelles. Il prossimo 2 luglio infatti illustrerà un piano con all'interno delle misure che prevedono meno rigore e più crescita. Emblematica d'altro canto la frase da lui pronunciata, ovvero l'Europa parli la lingua dei cittadini. Questo è altro all'interno della nostra rassegna stampa, vediamo. Apertura con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero, deficit il piano di Renzi per l'Unione Europea. Il Premier chiede una svolta al vertice di Bruxelles, si cambi su investimenti e flessibilità. L'Europa ora parli la lingua dei cittadini. La Le Pen, referendum per l'uscita dall'Unione. L'intervista, Nardella, grazie a Matteo, i moderati votano per il PD. Riforma degli statali, dirigenti assunti in prova per tre anni, nel decreto conferme solo ai meritevoli famiglie e 80 euro, si allarga la platea. Ferrovie, nuovo amministratore delegato, niente accordo sul nome. Sulla sinistra e al centro, Ucraina, Kiev, i ribelli abbandonati da Mosca, lasciate la città. La battaglia di Donets, 100 morti. Taglio basso, incubo finito, arrivano a Roma i 31 bambini adottati in Congo. Proseguiamo con la pagina regionale. Andiamo a Lecce, tragedia. Ieri pomeriggio in via Scotellaro muore a 17 anni, schianto con la moto. Il ragazzo ha battuto la testa contro un'auto. La cura, Bari, ok al piano d'Italia. La Fiera dell'Evante, approvata la proposta del Presidente per salvare l'ente. Via 45 lavoratori su 67, mobilità pensionamenti entro dicembre, costo del personale a 1,2 milioni di euro. La Gazzetta di Lecce, apertura dedicata alla cronaca con il fatto di cronaca nera accaduto ieri pomeriggio in via Scotellaro. Si schianta con la moto, muore un 17enne, inutili soccorsi per il ragazzo che è giunto cadavere in ospedale. Sindaci e operatori contro il racket degli ombrelloni. In prefettura firmati due protocolli per sostenere la legalità alla presenza del Vice Ministro Bubbico. Taglio centrale. Clamorosa sentenza. Occupazione di suolo illecita. L'Università dovrà risarcire. Non fu mai adottato un esproprio di 7500 metri quadrati di terreno. Taglio basso. Promossa una class action contro la regione. La rabbia dei florovivaisti. Xilella. Ci paghino i danni. Politica. Dura resa dei conti. Con urle accuse in municipio. Centrodestra in caduta. Perrone. Pensa al rimpasto. Copertino. Ballottaggio. Già iniziative per le grandi manovre. I risultati definitivi. Candidato per candidato. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia. Forza Italia. L'ora dei veleni. Sorpasso. PD e preferenze affitto. Esplode il caso. Perrone. Gravi errori. Gabbellone. Pronto a lasciare. Passiamo alla cronaca. Si schianta con lo scooter. Muore studente 17 nel tragico incidente a Lecce in zona Sanesiani. I carabinieri tornano in banca. I raggi X mutui e prestiti ai soci. Le indagini sul rinnovo dei vertici al credito di terra. D'Otranto. Taglio basso. De Castris. Senza l'unità. Non ci sarà la ricandidatura. L'appello del presidente di Confindustria Lecce. Il caso Otranto. Scrive a Papa Francesco. Sposato con una divorziata. Mi vietano di fare il padrino. Prima di passare alle pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia. Uno sguardo all'attualità. L'europeo. Il caso. Forza Italia. Veleni azzurri dopo il flop. E i big finiscono nel mirino. Marti accelera. Serve subito un congresso cittadino. L'intervista. Commessi troppi errori. Poco impegno dai miei. La strigliata del sindaco Paolo Perrone dopo la debacle nel capoluogo. Le preferenze di fitto fra boom e delusioni. Conti nei comuni. Il forte calo a Lecce. L'altra intervista parla Antonio Gabellone, coordinatore provinciale di Forza Italia. Partito senza un progetto. Potrei anche lasciare. Ed ora passiamo alle pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia. Bollette e mini shopping con il bonus da 80 euro. In busta paga gli effetti della misura del governo Renzi. Ma speriamo che non sia solo una trovata elettorale. Turismo patto per la legalità. Scatta la stretta antimafia. Sullidi e licenze estive. Firmano altri otto comuni. Vertice in prefettura. Controlli estesi a gestori e fornitori. L'intervista. Il rischio infiltrazioni è alto. Più agenti nei luoghi critici. L'accelerazione del vice ministro all'interno. Filippo Bubbico. Economia Decastris. Senza unità. Non mi candido al bis. Lettera del presidente ai soci di Confindustria. Indisponibile. Se prosegue lo scontro. L'inchiesta. Blitz in banca. Mutui ai soci. A raggi X. Carabinieri al credito di terra d'Otranto. Nel mirino i prestiti legati al voto del CDA. Il giallo. Muore in attesa della visita al pronto soccorso. La vittima è un 64enne. L'altro ieri in ospedale. Avrebbe lamentato. Forti dolori al petto. La tragedia. I salesiani. Sbanda in moto. Muore a 17 anni. Cade sull'asfalto. Il casco si rompe. La vittima studiava al nautico di Brindisi. Il dolore. Insegnanti e amici. Educato e sensibile. Lo strazio in famiglia. Figlio unico e legatissimo a mamma e papà. Il sede e i genitori all'espianto degli organi. L'emergenza agricoltura. I vivaisti della regione. Ulivi. Via irresponsabili. Coltivatori. Commissione di inchiesta sul batterio killer. Pronta anche una class action. Per difendere il settore. Il salento dei vini. La sfida delle cantine. Sotto il segno del rosato. Da sabato tre giorni al musto. Una kermess tra workshop, incontri e degustazioni. Concludiamo infine con lo sport. Supercaglioni verso il Forfè. L'infortunio subito col Benevento. Quasi certamente costringerà il portiere a saltare la gara col Frosinone. L'ex crotonese ha già cominciato la terapia ma il suo recupero appare difficile. Vineto mette in guardia Ciofani. Con il Lecce non avrà vita facile. Il difensore francese ha già fermato. Evacuo. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24. Buona giornata.